Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Buongiorno, siamo alla Dune di Pilà. Ci avviamo verso la Duna e verso l'oceano. Iniziamo la nostra risalita verso la Duna e l'oceano. Il percorso all'interno del bosco, che purtroppo viene penalizzato dal caldo, affoso, la canicule, il cane è cool, ma va a fancule, e adesso diventa ancora più difficile, soprattutto con le scarpe da ginnastica, che tra un po' ci leveremo da un... Beh, ragazzi, la Duna di Pilate è qualcosa di meraviglioso. è bellissima... Porca paletta! Grazie a tutti! 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 Ok, quando pensavo alla Duna più grande d'Europa non immaginavo una cosa così, onestamente. è finissima, 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 finissima! La distesa della Duna è veramente infinita, è pazzesca! questo posto è veramente strabiliante, è una di quelle cose sicuramente che vedi solo qua, sull'oceano, perché da noi una cosa così effettivamente è impossibile. è una Duna altissima, è estesissima, ma l'avete visto nel video. La sabbia è qualcosa di Eurotalco, è impalpabile veramente. una sabbia sicuramente antichissima e che l'oceano ha ridotto ai minimi termini. E' bellissimo anche sentirsela tra i piedi, perché è finissima, è una cosa che quando leggi, quando gli dicono la Duna più grande d'Europa, non realizzi, non focalizzi, perché è veramente qualcosa di incredibile. Se siete in zona, comunque, fermatevi. Bene, adesso scendiamo dalla Duna e vediamo se c'è l'accesso per entrare dentro il paesello dove abbiamo parcheggiato senza rifare il giro dall'ingresso. Speriamo, perché sennò dobbiamo risalire su e sarà una cosa devastante. Che suona dalla Duna, madonna, che però è spettacolare, fallo ta, buttati, salta, salta, affondi tantissimo, bellissimo. E' una sabbia spettacolare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.